Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con Silvano, benvenuto. E niente, partiamo subito. I tuoi inizi, come hai iniziato a fare? La tua carriera come è iniziata? Da Graffitaro che ho iniziato, mi sono avvicinato al rap con i graffiti e poi quando ho visto che insomma come mezzo di espressione aveva i suoi limiti ho iniziato a pensare appunto di dire veramente qualcosa col rap. Fico. E oltre appunto il rap e la musica in generale, quali sono altre tue passioni che non sappiamo, altre cose che ti piacciono fare? Beh, sono parecchio, ho abbastanza i parocchi nella vita, però mi piace cucinare, cioè è una delle cose che piacciono a tutti. Il basket? Mi piace fare i format delle chiesi. Sì, infatti per quello... E però diciamo, beh, la musica prende almeno un 80% della sfera creativa. Ottimo, ottimo. E chiudiamo con progetti futuri, cosa ci dobbiamo aspettare, quello che puoi dire ovviamente. Beh, speriamo di insomma di iniziare a suonare, come non vorrei essere scontato, penso solo a quello ormai. Un po' a tutti. No, speriamo di iniziare a suonare perché per alcuni artisti comunque il live fa tanto proprio per la promozione della musica, proprio per la divulgazione delle canzoni, per alcuni artisti vivono di quello e in questa fase qua sono quelli più penalizzati diciamo. Certo. Adesso dobbiamo chiudere la puntata con i tuoi due tiri liberi, che però siamo delegando. UB, devi tirare i tiri liberi per Silvano. Faccio 0 su 2, lui due. Devi correre lui, sì. Ma da qua a qua, Dio. Eh, non ce la può fare. Un po' sbagliato. Un po' sbagliato. Un po' sbagliato. Ah, a pozzo.